Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con il rogo che si è verificato ai danni di tre mezzi della società partecipata del comune Ghelas Multiservizi. I gnoti malviventi hanno appiccato il fuoco nella notte, non è la prima volta che la Ghelas subisce danneggiamenti, indagano i carabinieri. Vediamo. Rogo nella notte all'interno del parcheggio di via Marsala a Gela, due automezzi e parte di un cestello della Ghelas Multiservizi, società che opera per conto dell'amministrazione comunale. Indagini sono state avviate dai carabinieri. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, con una nota inviata alla stampa, esprime la sua indignazione. La vigliaccata consumata ai danni di tre mezzi della Ghelas Multiservizi non è soltanto un mero danno materiale alla collettività, ma è la metafora di una coscienza civica incenerita dalla spocchia e dalla inferiorità umana di chi vorrebbe trascinare con sé tutta una città dentro il baratro dell'inconsistenza morale, dice il primo cittadino condannando l'ultimo gesto consumato contro la società partecipata del Comune che si occupa di servizi amministrativi sociali e di manutenzione. Confido nel lavoro degli inquirenti affinché siano individuati e puniti i responsabili, ha continuato il primo cittadino. Auspico contestualmente un modo di indignazione generale da parte di tutti i gelesi onesti che non possono continuare ad assistere impotenti a questo stilicidio subculturale. Questa azione indegna, oltre che sui contribuenti, avrà ripercussioni sulla mole di servizi per il decoro urbano che abbiamo attivato in vista dell'imminente stagione estiva. Di questo ci scusiamo, ma fino a quando non ci sentiremo tutti parte di uno stesso corpo sociale, ha concluso Messinese, Gela sarà sempre più vulnerabile ad un'ignobile minoranza che offende il vero nome della città. Sono stati avviati in questi giorni diversi interventi di decoro urbano e manutenzione dell'assessorato comunale ai lavori pubblici diretto dall'assessore Flavio Di Francesco. Il punto in questo servizio, vediamo. Era di qualche giorno fa un nostro servizio giornalistico che denunciava la gravissima situazione di degrado in cui versava il cimitero monumentale di Gela, raccontata dalle impietose immagini di un luogo sacro, deturpato e sfregiato dall'incuria e dall'abbandono. L'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco ha disposto gli interventi e operai della Tecra ieri erano già al lavoro. Le unità impiegate stanno effettuando soprattutto operazioni di scerbature e pulizia. Contemporaneamente lavoratori ex RMI al servizio dell'ufficio manutenzione coordinato da Angelo Scudera stanno provvedendo alla potatura degli aranceti di Corso Vittorio Emanuele. Intanto operai sono al lavoro anche per restituire ripulito l'orto fontanella in prossimità del grest estivo. Infine dopo l'estirpazione di alcuni alberi pericolanti anche Piazza Martiri della Libertà sarà riconsegnata pavimentata alla città. Sono degli interventi importanti che servivano al decoro del cimitero monumentale dove siamo intervenuti già a Farello qualche mese fa e adesso siamo intervenuti al monumentale. Quindi è un intervento molto importante perché chiaramente è una situazione che è indecorosa e che stiamo cercando con molto impegno di assolvere. Interventi importanti sono la potatura degli aranceti sul Corso Vittorio Emanuele che continuiamo di finire entro il mese di giugno. Anche questo è un intervento importante per ridare un buon decoro e estetica diciamo al Corso Vittorio Emanuele. Un altro intervento importante è anche Piazza Martiri della Libertà dove abbiamo tolto degli alberi pericolanti dove stiamo sistemando la pavimentazione e continuiamo in questa settimana di completare il lavoro per rendere fruibile anche questa importante piazza. Non risultano compilate correttamente numerose domande protocollate finora al Comune di Gela per ottenere l'assegno a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori. E' quanto hanno riscontrato gli uffici del settore servizi sociali nel corso di un primo esame delle istanze che scadono il prossimo 31 gennaio. L'assessore Licia Abela raccomanda ai richiedenti di prestare molta attenzione nella compilazione del relativo modello prestampato in ogni sua parte se è il caso di chiedere l'assistenza all'ufficio di segretariato sociale per evitare di compromettere l'accesso al beneficio. Il modello dell'istanza, lo ricordiamo, è disponibile allo sportello di Viale Mediterraneo oppure online sul sito del Comune di Gela. Licenziamenti collettivi e individuali è il tema di un incontro che si terrà venerdì 17 giugno prossimo alle 15.30 presso l'Aula Moscato del Tribunale di Gela. L'evento è organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Gela, dall'Agi e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta. Relazioneranno gli Avvocati Palma Balsamo, Giuseppe Marino e Giuseppa Cannizzaro. Avviato per i detenuti presso la Casa Circondariale di Contrada Balate un nuovo progetto formativo denominato Archestrato. La presentazione è avvenuta questa mattina. Vediamo. Sarà dedicato al celebre poeta gelese Archestrato il progetto ideato dall'Associazione Gli Amici di Antifem ed Entimo e proposto alla direzione della Casa Circondariale di Contrada Balate a Gela. È previsto per i detenuti un percorso tra competenze gastronomiche e storiche alla scoperta della cucina gelese di Archestrato. Il progetto consta di due fasi. Una prima fase esecutiva con la preparazione di alcuni piatti tipici della cucina gelese che si rifà al mio libro scritto anni fa. E la seconda parte è quella che gli stessi detenuti alla fine del corso assieme agli chef che io ho coinvolti di Appetiting e Ciaramella prepareranno una cena per ospiti che verranno dall'esterno i quali dietro un contributo che poi sarà devoluto a fine di beneficenza e si è stabilito di devolverlo alla AIRC. Non è una cosa sterile legata solamente al cibo, alla cucina ma è benessere e anche qui l'esterno ci aiuta, compartecipa per migliorare il benessere all'interno della Casa Circondariale di Gela. La presenza di due chef, Chef Ciaramella e Chef Toto Catania insieme all'Associazione Culturale Gli Amici di Antifem ed Entimo ci ha dato l'occasione di creare questo progetto che in una prima fase curerà l'elaborazione di piatti culinari della tradizione di Gela, siciliano in generale anche rivisitati in termini così futuristici e poi una seconda parte, ipotizziamo una cena aperta, un galà aperto un po' alle autorità e ad altri amici del carcere in partner con l'AIRC anche per lo scopo di promuovere la prevenzione dei tumori. Oggi con i partecipanti al corso svilupperemo un antipasso della tradizione gelese e l'insalata d'arance in due versioni. La versione tradizionale, quindi la ricetta originale è una versione, una rivisitazione moderna che sarà una tartara di manzo con i profumi dell'insalata d'arance. In occasione di questa iniziativa nella Casa Circondariale stiamo cercando di creare quello che ha lasciato la tradizione di Archestrado e cerco di preparare come primi piatti delle taglioline a base di ceci e dell'essenza di Cotenna, dando la tradizione di quello che erano i nostri tempi. Il 17 e 18 giugno prossimi, dalle 9, presso l'auditorium del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele Di Gela, si terrà un seminario di studi sulla gestione dei centri di accoglienza per immigrati, preseduto da Vincenzo Cascio, direttore scientifico, in collaborazione con la Fondazione Antonietta Salvatore Aldisio. Con questo seminario ci si prefigge di fornire agli operatori sociosanitari gli strumenti pratici e le strategie applicative che consentono di gestire comunità come i centri di accoglienza per immigrati nelle diverse aree di convergenza psicosociale e l'area sanitaria. Il seminario, patrocinato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana, consentirà ai partecipanti l'acquisizione di crediti formativi. Terminate le lezioni didattiche, prenderanno il via domani le attività del campus estivo al secondo circolo didattico Enrico Solito di Gela. Sentiamo di cosa si tratta. Prenderanno il via domani le attività del campus estivo del secondo circolo didattico Enrico Solito. La scuola è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse per poter consentire a bambini e genitori di usufruire delle strutture dell'edificio, in un periodo durante il quale invece per tradizione le scuole restano chiuse. Laboratori, piscina, sport, lingue straniere, teatro e tante altre attività ancora nel programma del campus estivo del secondo circolo didattico. in un mix di attività che tengono impegnati i bambini dalle nove del mattino alle sedici del primo pomeriggio, in uno stop di attività interessanti, nel mezzo delle quali i bambini potranno rilassarsi per la pausa pranzo. Dirigente Nobile, per l'ennesimo anno il secondo circolo didattico Enrico Solito organizza il campus estivo, una iniziativa che ha un po' anche anticipato quelle che erano le linee governative, cioè tenere le scuole aperte anche d'estate. Sì, sicuramente. Noi ci stiamo preparando a questo grande evento come ogni anno e la scuola sicuramente possiamo dire che l'Enrico Solito ha precorso i tempi. Il Ministero infatti ha capito l'importanza per gli alunni, per i genitori, l'importanza di tenere le scuole aperte in estate. La scuola quando apre con tutto rispetto per il grande lavoro che fanno le varie associazioni culturali o le parrocchie. La scuola quando apre in estate apre come scuola, non come Grest, quindi apre con dei professionisti. La nostra scuola, dico, si sta preparando a questo grande evento. Da domani noi per quattro settimane avremo la scuola aperta non solo ai nostri alunni ma alla città. È una scuola che continua, che continua con un sistema diverso, forse come dovrebbe essere tutto l'anno, una scuola fatta di laboratori. Più come si organizza una giornata intensa di campus? Sì, hai detto bene, intensa, perché veramente l'intensità è la valenza che caratterizza e contraddistingue il campus. Un campus che è una proposta progettuale del nostro POF e che ormai è radicato nel territorio come proposta progettuale del nostro POF, ma come servizio al territorio. Infatti la scuola durante il campus si trasforma, diventa attrattiva. Diventa attrattiva proprio nella misura in cui la didattica si trasforma e cambia la nostra metodologia per quello che concerne soprattutto l'aspetto dell'approccio metodologico e delle strategie. Si svolge tutto in laboratorio e si diventa in un dinamismo proprio così, si diventa a volte compagni di gioco con i bambini, con i bambini interni e soprattutto con gli esterni. Ecco che diventa quindi, questa scuola diventa piacevole in estate. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sarà presentato venerdì 17 giugno alle 19.30 presso l'Eschilo Lab il libro Camicette Bianche di Esther Rizzo. Converserà con l'autrice Evita Lorefice. Si conclude così il diciottesimo torneo internazionale di tennis con la vittoria di Paolo Lorenzi, il campione toscano numero 57 al mondo dopo tre ore di gioco che ha tenuto con il fiato sospeso un pubblico di oltre 1500 persone, ha battuto l'avversario piemontese Matteo Donati per 6-3, 4-6, 7-6. Per la prima volta nella storia del challenger di Caltanissetta sono stati due italiani a contendersi il podio. La più bella finale del torneo di tennis, ha commentato il presidente TC Caltanissetta Michele Trobia durante la consueta cerimonia di premiazione. Il torneo è stato bellissimo, quattro italiani, tre italiani in semifinali, cosa si poteva pretendere di più? È da anni che non vediamo atleti italiani arrivare nella finale o vincere il torneo. Siamo felicissimi, orgogliosi e felici di aver realizzato qualcosa che ci pare forse troppo grande e troppo bello. Quindi in questo momento lei mi coglie, mi viene voglia di lodarmi, quindi rischio proprio di imbrodarmi. Allora sinceramente dico faremo di tutto perché questa avventura possa continuare. Sembrerebbe però che una parte del pubblico non abbia gradito la presenza del sindaco in Terra Rossa che ha consegnato il premio al secondo classificato Matteo Donati, connettando il gesto con un brusio generale dei fischi. Poco dopo però la situazione è tornata alla normalità con un fortissimo applauso per il vincitore Paolo Lorenzi che a partita finita ha reso merito al suo avversario complimentandosi per come ha affrontato l'intero torneo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà dei soci dello Juventus Club Doc di Gela che in collaborazione con l'Ada si organizzano una giornata dedicata alla donazione di sangue denominata Chi dona sangue ti fa vita. L'iniziativa deriva dalla volontà del consiglio direttivo dello Juventus Club Doc di Gela di coinvolgere tutti i soci e i tifosi juventini per dare un segno di solidarietà al servizio del prossimo. I donatori di sangue che si recheranno al centro di raccolta fisso dell'Adas in via degli Appennini al numero 5 riceveranno un gadget offerto dal club. L'appuntamento è fissato per domenica 19 giugno prossimo a partire dalle 8.30. Una giornata scandita dai ricordi di chi ha scritto la storia del calcio Granata e di chi insegue il sogno della vittoria. Sono i picciotti del toro i tifosi nisseni della squadra piemontese insieme per raccontare i trionfi e le vittorie di una squadra che quest'anno ricorda i primi 40 anni dalla conquista dell'ultimo scudetto. Attorno al tavolo di un noto agriturismo nisseno i tifosi Granata hanno condiviso un pranzo e poi un intero pomeriggio assieme a due vecchie glorie del calcio, Luciano Castellini e Claudio Sala. Quando giocavo io eravamo del cartellino di proprietà della società, quindi tante volte noi non sapevamo se c'era una trattativa in corso con un'altra squadra. Adesso praticamente il calciatore prende contatti con una società e la società di appartenenza non sa assolutamente niente. Noi facevamo contratti annuali, adesso si fanno contratti quinquennali e quindi chiaramente la differenza sta proprio lì perché dopo un anno se non avevi vinto niente era difficile spuntare qualche cosa in più dal punto di vista del contratto e quindi è cambiato tutto, sono cambiate le regole, sono cambiate le norme, il portiere una volta poteva prendere la palla con le mani e adesso non può prenderle e quindi chiaramente è un calcio completamente cambiato. Dire quale era più bello penso che lo possano dire solo gli spettatori. Grande accoglienza, la cosa più strana è che mi conoscono ancora e ci vogliono ancora bene, pensavamo di essere stagionati invece probabilmente si è riaccesa una fiammella di entusiasmo ancora. Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela, tutti gli spettacoli si terranno all'aperto, si comincerà venerdì 24 giugno prossimo alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto, la rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia, prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta. E tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.